Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata. In questi ultimi mesi si sta parlando sempre che in Italia manca i difensori centrali, anche perché comunque Bonucci e Chiellini stanno invecchiando, Romagnoli ancora non è molto affidabile e quindi si sta parlando appunto di questa cosa che in Italia manca i difensori, una nazione che è stata sempre fulgida di difensori. In questo video però voglio parlarvi di un giocatore italiano, difensori centrale ovviamente, che potrebbe essere utile a molte squadre in Serie A. Soprattutto mi è venuto a pensare il Torino, come si sa il Torino in estate potrebbe cedere Bremer, ha subito lo sgarbo da parte della Juventus per Federico Gatti e quindi insomma i Granata sono ancora alla ricerca di questo difensori centrale. Ovviamente tante altre squadre potrebbero tornare sul mercato in estate per cercare altri difensori centrali, vediamo ad esempio il Cagliari che ha comunque un lovato che tecnicamente dovrebbe tornare ad Atalanta, nonostante, ma negli ultimi anni si è parlato anche di un rinnovo di prestito, ha comunque un altare che classe 98 discretamente interessante, però insomma non è tutto sto che secondo me e quindi per fare appunto due esempi, Torino e Cagliari, appunto ho deciso di portarvi questo video, soprattutto dedicato al Torino perché quello è un po' più in emergenza. Prima però di andare nella noccia questione, ovviamente avete capito di chi si tratta comunque dal titolo, quindi Simone Canestrelli. Prima di andare nella noccia questione, quindi svisciare un pochino l'argomento di vedere chi è questo gioco di difensori, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle notifiche, prima di sempre ragione sulle news e quindi niente, niente ovviamente, mi raccomando, supportate il canale, supportate il progetto, ma ora passiamo direttamente a parlare del ragazzo. Chi è Simone Canestrelli? Difensore centrale Scuola Empoli che nella stagione 19-20-2021 ha militato nell'Albinoleffe, poi questa stagione è iniziata con l'Empoli ma poi è passato al Crotone in prestito con diritto di riscatto e diritto di conto riscatto. Difensore classe 2001, pensate, 192 cm, quindi una bella bestiola che sta giocando veramente tanto in Calabria. Un giocatore sul quale l'Empoli, vista anche la forma di trasferimento, potrebbe puntarci ma anche no, però giocando in Calabria appunto in questa stagione sta veramente crescendo tanto. Un difensore destro di piede, 192 cm, grande difficoltà, però è un difensore centrale che io amo, una tipologia di difensore centrale che io amo perché pulito, sa giocare in più moduli, visione di gioco ottima, contando anche che lui in passato ha giocato anche come mediano e come centrocampista centrale, quindi un'ottima tecnica di base, corre a testa alta, gioca alto, va in pressing, veramente tanto pulito nei contrasti, di testa è veramente importante. In stagione due gol e un assist per lui in Serie B e appunto questa fisicità comunque non lo rende lento, non è di velocità clamorosa, non è un patricevrà, però comunque insomma per la mole è veramente interessante a livello di corsa e di scioltezza in campo. Un giocatore che sa veramente impostare l'azione, che ripeto è un difensore centrale, come ho già anche detto, con i piedi da mediano, che è molto abile nel cambio gioco, vede l'azione e dirige il gioco, ottimi tempi difensivi, sa usare veramente molto bene il corpo, ponendosi tra la palla e l'avversario e veramente mai falloso. O meglio, se magari fa fallo, non è quel fallo sporco, perché comunque in stagione si è preso anche 5 gialli e un rosso, però il difensore è quello. L'ultimo difensore è Pulitino, Pulitino, abbiamo visto Rugani, che sempre all'Empoli non prendeva mai un giallo e poi è arrivata la Juve, però ha subito quello scotto di mentalità, perché purtroppo è nel DNA del ruolo. Il difensore centrale è colui che è l'ultimo baluardo prima del portiere. Quindi per cui se la difesa fa un errore, scusate, se il centrocampo non protegge adeguatamente è il difensore centrale ovviamente che deve andare a sopperire, però ci può stare il fallo, voglio dire, quindi è nato l'appunto del ruolo, come è nato anche dell'incontrista di centrocampo prendere un po' più di gialli, però ripeto, è vigoroso, pulito e non cattivo. Perché io lo consiglio, diciamo così, soprattutto al Torino? Perché lui, in primis, è un ex mediano, quindi può giocare in due ruoli e si eviterebbe il discorso di vedere poi Lukic arretrato come difensore centrale in determinate occasioni. Seconda cosa, è molto simile a Bremer, da un certo punto di vista perché è aggressivo, sale col pallone, secondo me lui ha anche un piede miglior di Bremer. Poi, ha giocato anche nel 3-4-2-1 il modulo di Juric, quindi neanche dovrebbe adattarsi particolarmente. Poi, un ulteriore cosa, ha giocato anche centrali d'essere un difesa 4 in un 4-2-3-1, quindi per cui, se vi dovesse essere mai un cambio di modulo o di passaggio, difesa 3, difesa 4, lui non subirebbe lo scotto. Come magari potrebbe subirlo, faccio un esempio, un Zima, o un Gigi, o un Rodriguez. In più, sa usare anche discretamente bene il sinistro, deve ancora migliorare lui prettamente destro, però per le giocate importanti usa sempre il piede forte. Ma ha giocato anche come braccetto di sinistra, quindi se vi dovesse essere un miglioramento, anche su questo fondamentale, capite che gioco forza. potrebbe essere anche il sostituto di Rodriguez come braccetto di sinistra. Certo, avesse un po' più distinto ad avanzare sulla parte sinistra del campo, sarebbe anche meglio, ma lui, in un difesa 3, potrebbe sia fare il braccetto di destra, che il centrale, perché lui ha i tempi di gioco anche da libero, cosa che magari Bremer è portato molto più a salire, ma i tempi di gioco così eclatanti non li ha proprio da centrocampista. Esempio stupido per i più giovani, Lothar Matteus, ex quartista, messo come libero nell'Inter che fu, fino agli 80, inizioni 90, indi per cui un centrocampista ha retrato quanti ne abbiamo visti, abbiamo visto De Rossi a fine carriera, abbiamo visto anche Cristante, sebbene la qualità sia un po' quella che sia, però, vuol dire, alletrare un centrocampista centrale come libero, vuol dire partire con grande garanzia dal basso, ergo avere un Canestrelli come difensore centrale e magari a destra mettere un Zima, a sinistro Rodriguez, non sarebbe assolutamente male, ovviamente da vedere poi, da valutare, più che altro quello del crono riscattasse, quale sarebbe il prezzo di conto riscatto da parte dell'Empoli, quanto poi l'Empoli andrebbe a chiedere al Torino della situazione. Secondo me meno di 5, 6, 7 milioni non si spende, però stiamo parlando di un 2001 che è già stato titolare in Serie B a soli 20 anni, anzi 21 anni, e non magari di un 98 che è la prima vera stagione in Serie B. Quindi, se io dovessi fare un investimento, ipotizzando Gatti Libero, Gatti che sta ancora a Frosinone, spendere 10 milioni per Gatti e spendere 7-8 per Canestrelli, io spendere più per Canestrelli, proprio detta papale papale. Ovviamente, spero che il video vi sia stato utile, raramente faccio questi video consigli per gli acquisti, però ogni tanto se mi si accende la lampadina di un eventuale consiglio per un eventuale club, io magari lo do, magari analizzando un pochino le esigenze di quel determinato club. Nel Torino, ad esempio, lui potrebbe magari ricoprire il ruolo che adesso fa Mandragora, qualora eventualmente Mandragora fosse riscattato e magari dovesse mancare, contando che Pobbegasse andrà via mai più una mezzana e magari dovesse servire un vero incontrista di centrocampo, ecco che con un Ricci che ti gestisce palla e dall'altra parte, il Ricci anche un po' più leggerino, e dall'altra parte metti uno di 192 cm, forte di fisico, che sa giocare il pallone, che sa fare da incontrista, ragazzi, top acquisto. Spero, ripeto, che il video vi sia stato utile, in tal caso lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, ti vado a campanelline per ricevere tutti i news dal canale, non mi resta che fare altro che dare un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!